...e la loro giovane vita fu unita nel sacrificio, a quella di Cristo Pagliano e in buona vita. Vincitore fu per il caso questo malato. E poi il giorno di Castelli, Adolfo, Fioradelfo e Cilino, invece vede per noi. Nelle famiglie ci siano le pizze dell'amore e mai violenza. I figli si sono educati nella fede e nel valore. I figli si sono educati nella fede. I figli si sono educati nella fede. Grazie a tutti. Grazie a tutti.